Nooo! Ma io l'ho tradito! Era un re! Tutti lo prendevano in giro! C'è tua l'altissima considerando che poi tu campi di vento! Dabbè, io non campo di vento! Come non campi di vento? No, quella era il piano precedente! Ma scusa, non si chiama la fosa che campa di vento questa favola? Questo non vuol dire che io debba accampare da me in vento! Ma non regali sì! Ho dimenticato il piano! Questo è un problema! E Beppe e la Carbonaia si innamorarono! Tanto! Ma proprio tanto! Tantissimo! E si è vicino! E quindi mi stai dicendo che tu sei stato salvato da una sirena! E che tu pari di ultimazione? Grazie a tutti.